Emozioni e gol nella testa coda di Borgo Vercelli. Vincono i padroni di casa 5 a 3 contro il Trino. Borgo Vercelli che dunque risponde alla Greville Corsaro alla Galdi di Bavino. Nell'anticipo di sabato scricchiola invece sempre più la panchina di gioia a Trino. La cronaca subito con i gol al settimo. Colpo di testa di Berzero, difesa del Trino che si fa sorprendere. De Laurenti scarica in rete il gol dell'1 a 0. Palla al centro, passano pochi secondi. E sugli sviluppi di un calcio d'angolo lo stesso Berzero devia nella propria porta ed è 1 a 1. Al diciassettesimo rimessa laterale di Rognone, altra dormita. Della difesa del Trino ancora De Laurenti se davvero rapace d'aria fa il 2 a 1. Palla al centro, calcio di rigore per il Trino. Fallo di Miglietta su Erbini dal dischetto. Va lo stesso Erbini che calcia però debolmente e centralmente para Cantele. Lo stesso portiere del capolista e protagonista due minuti dopo con un super intervento su Osenga. E dunque Cantele blinda il risultato al trentesimo. Arriva il gol del 2 a 2 meritato per gli ospiti. Cross di Birolo per Erbini. Tapin vincente. Il numero 9 si riscatta dopo l'errore dagli 11 metri nella ripresa al terzo. Ancora angolo di Rognone. Ancora De Laurentiis che si porta a casa il pallone della partita. Firmando la personale tripletta all'ottavo. Punizione di Bissacco, il migliore del Trino. La palla va a colpire in pieno il palo. Alla decimo il 4 a 2. Bagdadi recupera il pallone. Tira dalla distanza. La palla prende velocità sul terreno bagnato e si infila nell'angolino. Alla diciottesimo strato sferico Cantele su un tiro dalla distanza del solito Bissacco. Alla mezz'ora il 5 a 2. Tapin vincente di Petrillo dopo la corta rispinta di Chiovenda. Sul tiro di Rognone alla quarantesimo. Piove sul bagnato in casa Trino per il rosso. Diretto ad Erbini per un fallo su Biano. Al quarantacinquesimo Bissacco trova il gol del meritato per lui. 5 a 3 con un bel tiro che non lascia scampo a Cantele. Termina 5 a 3.